ciao fragoline questo è un video diverso dagli altri perché ovviamente vi devo dare un aggiornamento sul sul canale del mese di agosto non è un vlog volevo fare il vlog però poi ho pensato dato che non so cosa farvi vedere preferisco parlare e fare un video un po chiacchierino che da un bel po che non lo faccio e volevo fare volevo aggiornarvi sul sul mese di agosto di quello che succederà ovviamente ho deciso di prendermi una pausa di un mese in poche parole che adesso vi spiego diciamo il perché e vi spiego anche la pausa più o meno quanto è i giorni allora ho deciso di prendere allora per me è una pausa di un mese ma per voi è come se sto praticamente solo due settimane via voglio precisare che io non vado in vacanza non vado al mare in agosto nei mesi di luglio agosto non vado mai ma andrò a dicembre a dicembre gennaio avrò quelle due settimane anche sperando anche tre settimane di vacanza e andrò in teoria al mare anche se quest'anno non so se andrò a mare ma andrò ovviamente via in poche parole devo ancora decidere e dato che le ferie io ce l'ho dicembre a gennaio in agosto praticamente lavorerò tutti i giorni però il mese di agosto è un mese in cui youtube praticamente con le visualizzazioni va proprio basso per cui la mia decisione è prendere queste due settimane senza pubblicare i video sul canale in poche parole io ho già registrato i video che usciranno il mese di agosto che saranno cinque video e ho deciso di fare solo cinque video nel mese di agosto di pubblicare solo video di gratte vinci per cui tenetevi pronti che il mese di agosto vedete solo gratte vinci per campire un po se vi piace davvero questi video qua e se vi piace che io diciamo anche poi l'anno successivo pubblicherò anche lì gratte vinci in poche parole e per cui ho deciso di non pubblicare per due settimane i video usciranno solo questi cinque video di gratte vinci nel mese di agosto e io prenderò ovviamente un mese di pausa senza registrare senza diciamo montare i video eccetera almeno non lo so perché forse registrare i video di sicuro registrerò i video ma non credo che li monterò per cui la mia pausa per me è per un mese invece per voi è solo per due settimane ho deciso così perché ripeto secondo me la gente va al mare va in piscina e non vuole diciamo vedere i video su youtube non vuole mettersi in mese di diciamo di agosto a vedere i video e allora alla fine dato che le visualizzazioni sono basse ho deciso di pubblicare solo quei cinque giorni di quei cinque video allora in le settimane che non pubblicherò i video sono dal 6 fino al 16 per cui compreso capo non pubblicherò video io come sapete pubblico tre video a settimana che sono martedì giovedì giovedì e sabato e voi dovete calcolare questi tre video che c'è questi tre giorni che in poche parole non pubblico per cui ho calcolato due settimane e appunto è dal 6 al 16 non pubblicherò non pubblicherò questi tre video in questa settimana poi ci sarà altri due video se non mi sbaglio dal 16 fino al 20 e poi dal 20 fino al 30 non pubblicherò gli altri due video che praticamente usciranno martedì e giovedì per cui le settimane in cui non usciranno i video per queste due settimane sono dal 6 al 16 e dal 20 al 30 di agosto il 31 di agosto pubblico il video ma è sempre un grattevinci da settembre che adesso non so se è il 4 di settembre cioè un martedì che poi inizierà il mese di settembre pubblicherò i video normali che saranno quelli che pubblico sempre tipo lo shopping i blog i prodotti finiti tutti questi video qua in poche parole che poi pubblicherò a settembre volevo avvisarvi perché così almeno dato che molte persone mi seguono veramente sono sempre presenti nei miei video anche se non scrivono sotto nei commenti perché diciamo hanno diciamo non paura ma non hanno il coraggio di lasciarmi un commentino qua sotto ma sanno che sono sempre presenti e guardano sempre i miei video ovviamente so che mi iscrivono sempre in privato e non scrivono sotto nei commenti per cui quelli che davvero piace vedere quello che faccio piace il mio canale eccetera allora voglio avvisare le persone che davvero sono sempre presenti nei miei video e sanno che tipo martedì alle 2 esce il video e appunto volevo avvisare a fare questi aggiornamenti per questo canale per il mese di agosto calcolate anche che il mese di agosto farò quelle 2 settimane anche se volevo fare in teoria avevo intenzione di fare 3 settimane senza video però poi ho detto c'è il mese di dicembre gennaio che non pubblicherò anche lì cioè quelle calcolate che il mese di dicembre gennaio saranno almeno 3 settimane anche 4 che non pubblicherò i video per il fatto che 1 ci sono dentro le vacanze 2 ci sono le 2 settimane che prenderò in io per diciamo andare al mare andare in vacanza per cui saranno tante tante settimane in cui io non pubblicherò in quei due mesi lì per cui ho deciso invece di fare 3 settimane il mese di agosto preferirei fare in dicembre gennaio meno che fare praticamente in agosto per cui volevo già avvisare per quelle persone che davvero ci tengono i miei video che li guardano tutti i giorni che non perdono neanche un video quando io pubblico per cui grazie a quelle persone che ci sono sempre state e ci sono sempre nel mio canale anche perché non è facile fare i video non è facile registrarli montarli ci vuole l'impegno ci vuole il tempo e dato che io sto lavorando tanto in questi due mesi sto facendo il possibile di caricarli montarli registrarli come infatti è caduto giovedì successivo quello che è già passato mi sono dimenticata totalmente di montare il video che dovevo uscire giovedì alla fine non avevo altra scelta e ho dovuto avvisarvi dicendo che non potevo pubblicare il video giovedì allora vi ho avvisato e ho detto che pubblicavo il giorno che era il sabato e se volete un altro video in più ovviamente era in questa settimana comunque vi avevo già avvisato in poche parole per cui ripeto non è facile perché ci vuole il tempo devi sapere quali video fare perché se fai un video così alla cavolo è normale che le persone te le guardano se sono video utili eccetera te le guardano di più per cui ci vuole tanto impegno e tanto lavoro dietro non è una cosa così veloce infatti adesso appunto sto lavorando tanto e diciamo che sono un po incasinata ma cerco di ovviamente dato che io ci tengo il mio canale cerco di essere sempre presente con i video e pubblicarli per cui mi sto organizzando in tutto sia pubblicarli che montarli c'è praticamente mi sto organizzando e e ripeto se le persone vedono i miei video che mi piacciono cioè è diciamo la voglia di farli se ovviamente ricevo 20 persone che guardano il mio video ad esempio la voglia di fare il video diciamo è bassissima però vedo che molte persone piace quello che faccio e in più vedo che vi piacciono veramente i video perché sono sempre presenti le stesse persone anche se non scrivono sotto nei commenti ma vedo dalle visualizzazioni cioè per me è una una cosa bella perché davvero so che ci ne so che le persone ci tengono tanto a vedere i miei video per cui io mi sto delungando tanto io spero che avete capito e niente se avete domande se avete qualche dubbio scrivetemelo sotto nei commenti giustamente io sarò sempre presente su instagram per cui chi non mi seguo ancora vi aspetto su instagram lì pubblicherò sempre di tutto quello che faccio ogni giorno anche se vado a lavorare pubblico sempre quello che faccio ogni giorno 24 ore su 24 ogni tanto non pubblico niente perché giustamente lavorando tutto il giorno è difficile pubblicare su instagram anche solo per 15 secondi di storia però se volete la compagnia ovviamente vi aspetto anche su instagram lì ci sono sempre se volete scrivermi in privato per qualsiasi cosa anche lì rispondo sempre a tutti sia su instagram che anche tramite mail e niente io vi cioè per me non proprio vacanza ma vi auguro buone vacanze per chi andrà al mare e per chi andrà in giro e detto questo che mi sto un po' impappinando non so mai cosa dire perché lì è un po' è anche difficile trovare le parole giuste e sbaglio sempre niente spero che i video che metterò dei grattivinci in questo mese vi piaceranno fatemelo sapere sotto sempre nei commenti e buone vacanze a tutti per me ovviamente che non andrò in vacanza non è una vacanza però credo che per voi sarà una vacanza perché so che un po' di voi andranno in vacanza quando mi scrivete in privato so che chi è andato in vacanza e chi non va eccetera va bene detto questo anche se mi sono un po' impappinata in tutto il video spero lo stesso che avete capito e niente io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao